Mentre la città in questi giorni è stata interessata dalla notizia della vendita di casa Quasimodo, è sembrato passare sotto silenzio l'iniziativa del libero consorzio comunale di Ragusa, che ha posto in vendita il palazzo Floridia Modicalta al prezzo di 400.000 euro, con un avviso in scadenza il 23 marzo prossimo. A dichiararlo Vito D'Antona, di sinistra italiana modica che continua, l'edificio Casa Natale dell'illustre maestro Pietro Floridia fu acquistato dalla provincia nel 2001, alla fine di rendere omaggio al grande musicista e destinarlo a centro culturale, tanto che lo stesso ente nel 2009 decise di provvedere alla realizzazione di un progetto per la messa in sicurezza e il recupero dell'edificio. Inoltre, proprio alcuni giorni fa l'Associazione Guide Turistiche di Ragusa, in occasione della giornata internazionale delle guide, ha organizzato una meritoria iniziativa online sulla vita del maestro Floridia e per la prima volta una visita, anche se virtuale, all'interno dell'importante edificio. Siamo convinti e confermiamo, continua D'Antona, come espresso in altre occasioni, che l'accessione dell'immobile ai privati costituirebbe per la città di Modica un evidente danno, sia dal punto di vista culturale, sia per il recupero e il rilancio turistico di Modica Alta, dato che l'edificio, tra l'altro, è collocato in un naturale percorso tra il complesso di Santa Maria del Gesù, la Chiesa di San Giovanni, il Castello dei Conti e la Chiesa di San Giorgio. La città di Modica deve reagire, non può ancora una volta subire passivamente scelte che hanno un riflesso negativo sulla collettività. In questo caso, peraltro, non si tratta di spendere soldi pubblici per acquistare, ma di non vendere un bene già di proprietà pubblica. Ricordiamo, afferma il rappresentante di Sinistra Italiana, che nel 2012, in una analoga occasione, la pressione popolare condusse l'allora commissario della provincia a ritirare dal bando un immobile storico a Ragusa. Oggi noi chiediamo la stessa cosa, il commissario del libero consorzio Depenni dall'elenco Palazzo Floridia. Per questo confidiamo, conclude D'Antona, in un'iniziativa del Consiglio Comunale di Modica, dell'amministrazione di Associazioni, nonché l'intervento autorevole della soprintendenza di Ragusa e dei deputati regionali, recentemente intervenuti anche in difesa di Casa Quasimodo.